Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. In A1 ricordiamo che fino al 18 giugno per lavori è chiuso il tratto compreso tra BV1 Variante Aglio in direzione di Bologna, uscita consigliata provenendo da Firenze e Badia su Variante di Valico. In FIPILI segnaliamo la presenza di personale su strada all'altezza di Firenze e Scandici in direzione di Firenze, possibili rallentamenti. Per la cantieristica, sulla SR70 della Consuma il traffico è interdetto ai mezzi pesanti per lavori fino al 16 giugno tra le località Palaie e Consuma. Uno sguardo al traffico ferroviario informiamo che le biglietterie di Campiglia e Orbetello oggi e domani sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!